Noi sulle intercettazioni vogliamo aprire una discussione insieme alla stampa e agli operatori della comunicazione. Dove sta il limite alla pubblicabilità di queste intercettazioni? Io faccio un appello ai direttori dei quotidiani, aiutateci a capire che cosa sia giusto fare. Qual è il limite delle pubblicazioni? Non c'è limite? Perché si può anche dire che non c'è limite. Noi al termine di questi due mesi poi decideremo. Non è che affidiamo ai direttori dei quotidiani la norma, poi noi le nostre norme le facciamo se c'è bisogno. Sulle intercettazioni il Presidente del Consiglio Renzi dice una cosa importante, cioè che non devono esserci limiti all'indagine dei magistrati. Poi si occupa delle pubblicazioni di questi colloqui e fa una cosa apprezzabile, cioè dice voglio ascoltare le opinioni dei giornalisti e poi il governo prenderà le sue decisioni. Quali sono i limiti, chiede Renzi, che riguardano la pubblicazione di questi colloqui? Ci sono dei limiti, chiede ai giornalisti, oppure magari voi pensate che non ci siano limiti. Ecco, io penso che non debbano esserci limiti alla pubblicazione dei verbali delle intercettazioni e l'unico limite è un limite, chiamiamolo così, deontologico, di opportunità, di interesse pubblico che però i direttori dei giornali e i giornalisti devono in qualche modo autodisciplinare, nel senso che tutti quelli che sono i limiti posti da una legge finiscono per essere repressivi della libertà di informazione, perché tanto sarebbe complicatissimo dire che cosa si può e non si può pubblicare, ci ha provato, ci provarono alcuni ministri del governo Berlusconi e fu un disastro. Quindi è difficile stabilire teoricamente in astratto qual è la materia pubblicabile e quale no, qual è l'interesse pubblico e qual è ciò che non è interesse pubblico. Poi noi siamo pieni di limiti, ci sono delle leggi operanti o ci sono anche dei codici che i giornalisti sono in qualche modo tenuti a rispettare. Intanto esiste la privacy, esiste un'autority della privacy che può certamente intervenire nel caso la pubblicazione delle intercettazioni violi la privacy senza che questo comporti un interesse pubblico. Anche qui siamo su un piano delicatissimo, ma insomma in passato l'autority per la privacy ha agito in questo senso. Poi tutto ciò che riguarda i minori è regolata dalla carta di Treviso e poi c'è ovviamente il codice penale e poi c'è la possibilità per chi viene citato di rivalersi se ritiene di essere stato tirato in ballo in maniera arbitraria. Insomma, voglio dire, l'Italia è il paese delle leggi, non mancano né le leggi né i codici né altro. Io credo che i giornalisti siano abbastanza maturi e soprattutto i loro lettori siano abbastanza maturi per decidere cosa è interessante e cosa non è interessante. Quindi direi al Presidente del Consiglio Renzi che per quanto riguarda le intercettazioni, la pubblicazione di esse, la cosa migliore che può fare è non intervenire.